Il momento di inerzia del 10esimo disco perché era un mezzo che avevo fatto giusto ma non l'avevo completato con voi perché non mi tornava era un momento di ricoglionamento il mio pranzo è stato un cappuccino quindi è un po' un caldo di zuccheri e poi questa è già la sesta ora che parlo allora il momento di inerzia del 10esimo disco guardate i vostri punti era un mezzo perché erano dischi pieni questa era la densità volumetrica questa era l'area del disco e questi sono spessori quindi questo è il volume moltiplicato per Ovi dalla massa questo è il raggio del disco che serve per avere l'area di facciata del disco e questo appunto appare due volte vedete che Ri al quadrato appare due volte quindi ho Ri alla quarta ma la Ri al quadrato è uguale al raggio della sfera meno Xi al quadrato quindi vedete eccolo qua non avevo scritto questo a voi e per un attimo e quindi quando espandete questo avete questo alla quarta vedete vedete R alla quarta più Xi alla quarta meno ok? quindi avrete quando farete pensere al sommatorio con un integrale avrete tre integrali con questo con questo e con questo d'accordo? ah manca la delta Xi qua eh? eccolo qua qua manca la delta Xi spostiamo la faccina spostiamo la faccina shhh dov'è la faccina? ok? quindi farete la somma qui ci sarà la somma qui ci sarà la somma e vedete che avete la sommatoria di tanti addendi moltiplicati quindi questo diventerà il vostro differenziale di x quindi avrete un integrale di R alla quarta costante in dx avete di x alla quarta in dx e avete questa roba in dx avete tre integrali e gli estremi di integrazione vanno da meno R a più R e lascio a voi il conto dettagliato sarà domanda dorale specialmente per i meccanici altro punto siccome a me secca shhh la vita è breve le ore sono corte poche quindi non posso fare tutte le dimostrazioni ma a me secca un po' dire qualcosa e non lasciare almeno un minimo di verosimiglianza se non faccio dimostrazione deve essere almeno un po' verosimile e guardate dove è andato più? fino a sparire allora alfa avevo iniziato su questa lavagna alfa quadro deve essere uguale a meno Km abbiamo capito questo quindi la la soluzione cos'è alfa? ce ne sono due uno cossegno più e uno cossegno meno e alfa è un numero immaginario ok? alfa è un numero immaginario quindi se questo è il piano dei numeri complessi questa è la parte reale di z e questa è la parte immaginaria di z il numero immaginario ha una soluzione qua e l'altra soluzione qui questo è più i omega 0 questo è meno i omega 0 le alfa sono immaginari una positiva una negativa d'accordo? sono di due tipi di alfa quindi ci sono soluzioni dell'equazione di Newton mx2 punti uguale a meno kx che sono di tipo più i omega 0 e ci sono di tipo meno i omega 0 la soluzione generale avrete la presenza di entrambi quindi la soluzione generale io la scrivo così come un tipo di soluzione col segno più e un tipo di soluzione col segno meno dove c li chiamo costanti c'è la costante di tipo più e c'è una costante di tipo più a priori c più e c meno non sono uguali sono diversi perchè non c'è niente qua che ci dice qual è il valore di c c può essere qualsiasi cosa voi potete far partire la massa da qua da qua allora attenzione ma cosa ci dice il teorema di Olero? quindi c'è il riquadro qua su questa lavagna riassuntiva che tanto omega 0 che cazzo è? è capo di isola m e che è omega 0 addice del capo di isola m abbiamo E alla i teta di tipo più c'è il teorema di Olero e questo è Olero che ci dice questo è Olero ma per noi il nostro angolo cioè la fase che appare qui o qui la fase del numero complesso sta cambiando nel tempo ok? quindi noi abbiamo che fare con un oggetto di questo tipo E alla i omega 0t è coseno di omega t più i seno di omega t consiglio meno avrai coseno meno i seno di omega 0 t la fase omega 0 t l'angolo sta cambiando linearmente nel tempo ok? pensiamo alla lavagna riassuntiva io ho due tipi di soluzioni in generale il teorema di Olero mi dice che questo pezzo lo posso scrivere così con il segno più questo lo posso scrivere così con il segno meno teorema di Olero quindi non faccio altro che espandere e raccogliere i pezzi con il coseno e raccogliere i pezzi con il seno vedete che ho c più coseno c meno coseno coseno in comune metto da parte coseno e ho c più più c meno poi se faccio lo stesso gioco col seno vedete che qua c'è un segno meno che è il teorema dell'Olero o che possono essere scritte come i volte c più meno c meno per il seno come vedete questa qua io la chiamerò a asterisco e questa qua la chiamo tutto questo tutto questo compreso la I la chiamo B asterisco ecco che la mia soluzione generale generale nel senso anche dei numeri complessi è un A asterisco per coseno più B asterisco seno dove A asterisco e B asterisco in generale saranno dei numeri complessi perché questa C e questa C sono numeri complessi in generale questa è la soluzione di numeri complessi sarà un numero complesso questa è la differenza di numeri complessi addirittura il moltiplicato per I in generale questo sarà un numero complesso ma il messaggio è che la soluzione generale può essere scritta in questo modo come A coseno più B seno ci siamo? allora l'enunciato che io voglio che voi sappiate è che se volete che la soluzione generale sia reale allora le A e le B devono essere reali perché questa è una funzione reale no? questa è una funzione reale quindi se volete che x di t sia reale quella A e quella B devono essere reali ecco l'enunciato ok? da dove riprendiamo adesso la lezione quindi se volete che x che descrive il moto del vostro cazzetto alla molla se volete che quello sia reale A e B devono essere reali c'è qualcuno che non ha capito? O adesso riprendiamo qua cancello tutto questo disegno lo lascio cancello tutto tranne il pezzo finale adesso io vorrei silenzio perché questa parte io mando a casa un sacco di gente o lo faccio per cattiveria è semplicemente che visto che ho fatto in classe e visto che è importante è giusto che se uno non lo sappia venga punito due volte per non aver capito che era un argomento che io chiederò e secondo per non sapere una cosa che ogni ingegnere deve sapere adesso qual è il significato cinematico di A e di B? questi simboli A e B sono così quindi vabbè matematici ma noi stiamo facendo un esempio un corso di fisica qual è il senso fisico cinematico per giunta di A e di B? allora qual è il valore di x quando t uguale a 0? normalmente noi la chiamiamo col simbolo x0 non è? quindi quando t uguale a 0 cosa succede? quando t uguale a 0 vale 1 e qual è il seno di 0? vale 0 quindi ecco che capite che quando t uguale a 0 vale 0 e qual è il coseno di 0? vale 1 e qual è il seno di 0? vale 1 vale 0 quindi ecco che capite che quando t uguale a 0 cioè qual è il valore di x quando t uguale a 0? quello che chiamiamo x0 questo vale A ed ecco che capiamo che A è il valore iniziale di x quindi piuttosto di scrivere A che è un simbolo che non dice niente scriviamo un simbolo che ci ricordi il suo significato la scriviamo cosa? posizione iniziale avete capito cosa ho fatto? voglio usare voglio cambiare notazione voglio usare una notazione che vi è amica che vi ricordi cosa state facendo A qual è il significato di A? A è la posizione iniziale allora uso una notazione che mi ricordi il significato cinematico di quella A quindi x0 è il valore di x quando t uguale a 0 uso la notazione che abbiamo usato già da qualche settimana nello stesso spirito chiedetevi cos'è B cosa sarà B? pensate in grande non pensate più alla posizione fate la derivata della posizione qual è la velocità? se la posizione in generale è data da questa legge oraria qual è la velocità? la velocità la scrivo sopra la velocità è uguale a x col punto no? e quant'è? quant'è la derivata di questa? quindi ritorniamo a A usiamo il valore iniziale quindi A coseno cosa sarebbe qua? qual è la derivata di A coseno omega 0t? la derivata del coseno rispetto all'angolo e meno seno ma non vi sto chiedendo la derivata del coseno rispetto all'angolo vi sto chiedendo la derivata del coseno rispetto al tempo quindi quindi ovvero meno ω0A seno di ω0T più la derivata di questo ω0B coseno di ω0T quello che ho scritto qui è la derivata di questo adesso qual è la velocità iniziale? cioè la velocità quando t uguale a 0 quando t uguale a 0 quanto vale il seno di 0? vale 0 quando t uguale a 0 il coseno di 0 vale 1 quindi la velocità nell'istante t uguale a 0 è uguale a quello che io chiamo V0 è uguale a ω0B quindi da questo deduco che A è uguale a x0 e da questo deduco che B è uguale a V0 diviso ω0 e quindi il modo più naturale per scrivere la soluzione generale per una massa attaccata alla molla è questa la posizione iniziale per il coseno di ω0T più la velocità iniziale diviso ω0 per il seno di ω0T quindi questa qua fate come volete scegliete la superficie del vostro corpo che vi è più congeniale vi consiglio una superficie del corpo che sia facilmente accessibile e tatuatevelo, tatuatecelo questo va tatuato sul vostro corpo meccanico questa è la soluzione generale di una massa attaccata alla molla meccanici gli elettrici avranno una forma molto simile nel contesto dei circuiti oscillanti quindi un circuito RCl nella misura in cui la resistenza è piccola oscillerà la resistenza sforzerà l'oscillazione a vista cos'è questo parametro? è la posizione iniziale cos'è questa velocità iniziale? cos'è ω0? dovete averlo tatuato anche quello ω0 è ω0 quadro il capo diviso R ok? quindi pensiamo ad alcuni casi un caso è che questo è il parametro questo è lo spiro del muro in cui è ancorato la molla un caso è che se questo è x uguale a 0 questo è x uguale a 0 il corpo per esempio sia dove la mettiamo? adesso a sinistra facciamo adesso per il momento però faremo anche a sinistra quindi immaginate che il corpo sia qua e che inizialmente sia fermo quindi questa è la posizione iniziale e che sia positivo e supponiamo che il corpo sia fermo finchè non mollo la presa quindi io posiziono il corpo lì e la tengo fermo con la mano quindi qual'è la velocità iniziale? se la tengo fermo la velocità parte da fermo la velocità iniziale è 0 qual'è quindi il comportamento nel tempo di questa massa? e guardate questo e applicatela dunque e disegnatela siccome v0 è 0 questo problema qua dove il corpo parte da fermo di che tipo è? è solo un pezzo coseno non c'è il pezzo seno c'è solo il pezzo coseno perché la velocità è 0 quindi la soluzione qua è x di t uguale al valore iniziale coseno di omega 0 t e questo a sua volta quando abbiamo fatto già tante settimane fa il moto circolare riforme voi sapete disegnare questa funzione se vi chiedono di disegnarla avrà questo aspetto disegnate l'asse dei tempi questo è x pensate a quello del tempo questo qua di nuovo dovete pensare ho una fase ho una fase che cambia linearmente nel tempo la mia fase è omega 0 t quindi nell'ipotesi che omega 0 sia positivo sta andando così per esempio se io vi chiedo quanto tempo deve passare affinché io abbia la fase da 0 arrivi a 2pi greco perché mi interessa 2pi greco? perché il coseno è periodico no? quindi io cerco qua 2pi greco e il tempo che mi serve per avere una variazione di 2pi greco in modo che il coseno sia sfrutto la periodicità del coseno questo tempo qua io lo indico con il T maiuscolo diventa il periodo passato quell'intervallo di tempo il coseno è esattamente il valore di prima periodico quindi io cosa faccio? sull'asse dei tempi metto delle tacche un quarto di T un altro quarto di T un altro quarto di T questo è T maiuscolo questo è T maiuscolo a mezzi questo è T quarti e questo è 3T quarti ok? questo rappresenta il valore di x quando T uguale a 0 quindi quando T uguale a 0 qual è il valore di x? vale x0 trac tiro questa linea qui tiro un'altra linea qua giù che è meno x0 trac mi faccio le mie anzi posso anche fare meno di scrivere perchè è chiaro cosa sono le tacche è chiaro pulisco un po' il disegno dovrebbe essere chiaro nella mia vita di tutti voi l'abbiamo già fatto quando abbiamo parlato del moto circolare certo che nel caso del moto circolare avevamo veramente qualcosa che faceva un moto circolare c'era veramente un angolo qua dove cazzo è l'angolo? nel piano dei numeri complessi la potenza della matematica però io disegno veramente male mi accorgo che non ho fatto un bel lavoro cerco di farne uno un po' decente è un po' meglio e questo è un coseno ok? nella misura in cui x0 è positivo perchè qualcuno ha detto che la voleva partire da destra allora questo parte qui e farà il suo bel coseno se invece il corpo partiva a sinistra del punto d'equilibrio cosa succedeva? se il corpo era qui avrei un 0 negativo e invece di essere così sarebbe stato così non vi pare? quindi finora abbiamo discusso il caso in cui il corpo parte da fermo cioè tipi di soluzioni che sono di questo tipo perchè quelli che partono da fermo hanno velocità 0 quindi sono di tipo coseno le soluzioni di tipo coseno descrivono molti in cui la partizionale parte da fermo ok? adesso facciamo uno schizzo di un corpo che parte non da fermo ma nell'origine dove lo disegno? lascio quello là lo disegno qua questo è la sponda questo è il pavimento questo è x uguale a 0 immaginate che il corpo sia qui inizialmente quindi la posizione iniziale sia 0 è chiaro che se il corpo è anche velocità 0 allora se questo è 0 e questo è 0 il particella x di t uguale a 0 cioè il corpo non fa un cazzo sta fermo adesso io voglio che voi capiate che voglio descrivere una particella che sta all'origine sì ma ha velocità diverso da 0 come lo vogliamo fare la v0? positivo o negativo? positivo vuol dire che il corpo è in questa posizione sta andando di là negativo vuol dire che va di qua facciamo prima il positivo poi facciamo il disegno quindi io voglio che la velocità iniziale adesso sia diverso da 0 quindi la velocità sia v0 e sia maggiore di 0 quindi queste grandezze hanno segni algebrici quindi che tipo di soluzione è? è di questo tipo di tipo seno quindi voi fate il vostro bel grafico perchè ormai lo sapete fare questo è x in funzione del tempo e guardate questa qua che dimensione ha? è meglio che abbia la dimensione di una lunghezza non vi pare? ce l'ha? ha la dimensione di una lunghezza perchè se non ce l'ha abbiamo sbagliato allora che parte? questa è una velocità diviso il tempo e questo cos'è? siete d'accordo che ha la dimensione della lunghezza tutto quanto? quindi non abbiamo sbagliato allora prima cosa che noi facciamo è di disegnare le linee orizzontali che rappresentano quello che è chiamato l'ampiezza forse non ho usato questa parola ma x zero cioè quello che moltiplica il coseno o moltiplico il seno è l'ampiezza perchè coseno da solo ha un'ampiezza 1 oscilla tra 1 e meno 1 seno ha lo stesso oscilla tra 1 e meno 1 quando lo moltiplico per qualcosa ecco che l'oscillazione va da quel qualcosa a meno qualcosa quella è chiamata l'ampiezza quindi questa è l'ampiezza del coseno questa è l'ampiezza del seno disegniamo l'ampiezza dunque questa qua sarà un certo valore v zero diviso omega zero questo è meno v zero diviso omega zero disegniamo le tacche temporali è chiaro che questo fenomeno è oscillatorio è ciclico va e viene, va e viene lo vedete è la base dei tempi la scelta del tempo naturale per questo fenomeno è il periodo quindi facciamo tacche non di secondi ma di t maiuscolo secondi quindi questo è un quarto di periodo un quarto di periodo un altro quarto, un altro quarto, un altro quarto e quando questo è positivo allora questo è positivo ok? e questo è un seno è un seno quindi quando t uguale a zero riparte qua va così non vi pare? questo è quando la velocità è positiva perchè cos'è la velocità? questa è la legge oraria la velocità è la pendenza retta a tangente vedete che la pendenza in questo punto la pendenza è positiva ha una velocità positiva all'aumentare del tempo la posizione aumenta giusto? quindi il corpo è sì nella posizione iniziale ma ha una velocità positiva vuol dire che al passare del tempo la sua posizione aumenta se la velocità iniziale fosse stata negativa la velocità era di qua e questo sarebbe stato negativo quindi aveva un meno seno un seno ribaltato quindi invece di andare così andava bagalcando colore va così ok? e vedete che qua la pendenza la derivata la velocità iniziale ha una pendenza negativa d'accordo? e la situazione generale cosa sarà? la situazione generale è quando il corpo non è né alla posizione equilibrio e non ha velocità zero quando sia x zero che v zero sono entrambi diversi da zero allora è chiaro che il disegno si complica un po' però questo sarà l'asse dei tempi questo è x di t nella posizione iniziale supponiamo che il corpo dov'è la sponda dov'è il disegno eccolo qua il disegno ne faccio uno nuovo pavimento sponda x uguale a zero inizialmente dov'è il corpo? e adesso a sinistra che velocità ha? positiva o negativa? velocità positiva vuol dire che va verso destra e negativa va verso sinistra quindi supponiamo che il corpo inizialmente sia di qua quindi in una certa posizione è x zero positivo in questo caso perché è a destra perché questa è la direzione positiva e supponiamo che abbia una velocità iniziale positiva quindi com'è? come lo disegno? inizialmente t uguale a zero lui si trova in una certa posizione x zero questa è la posizione x zero ma ha una velocità positiva quindi la derivata di x di t in quell'istante deve essere positiva quindi deve avere una derivata così quindi il modo migliore per disegnare secondo me è un po' a ritrovo quindi dove lo disegno? lo disegno qua lo disegno un po' a ritrovo disegno un'asse che sarà se volete l'asse dei tempi e x andrà su e giù ma non mi impegno a scrivere dov'è x uguale a zero voglio che qualitativamente voi sappiate che x andrà su e giù e disegno una sinusoide disegno una sinusoide quindi questo sarà il valore massimo dell'escursione questo è il valore nella direzione opposta la massima escursione di qua e di questa la massima escursione di là è uguale a direzione opposta disegno adesso una sinusoide con l'asse dei tempi con le tacche temporali quindi metto delle tacche temporali supponiamo che questo sia un quarto un altro quarto un altro quarto un altro quarto un altro quarto disegno se volete queste sono per guidarmi nel disegno eh queste sono solo per guidarmi nel disegno nel disegno perchè devo disegnare una sinusoide o cosenoide non so se la parola cosenoide esiste si dice il sinusoide no? un sinusoide può essere sia un coseno che un seno e disegno una sinusoide usando queste tacche disegnate leggermente per avere la periodicità un disegno decente faccio le ampiezze ampiezza meno ampiezza e le tacche temporali quindi disegno la sinusoide che mi piace di più quale piace a lei? la seno o il coseno? facciamo un seno allora disegno il seno coseno adesso non ho ancora messo dov'è t uguale a zero non ho ancora messo t uguale a zero io voglio adesso mettere t uguale a zero dove mettere t uguale a zero in modo che x zero sia positivo e v zero sia positivo cos'è x zero? è la posizione iniziale e v zero è la pendenza della retta tangente io voglio che la pendenza della retta tangente sia positiva e voglio che x zero sia positivo quindi un posto potrebbe essere per esempio qui non vi pare? io potrei mettere qui t uguale a zero e questo è x t uguale a zero perchè avendo questa scelta qua di t uguale a zero vedete che la posizione iniziale è positiva e la pendenza è positiva invece per esempio questo punto qua se mettessi t uguale a zero qui questo avrebbe una x zero negativa con una pendenza negativa lo vedete? io mi disegno la sinusoide poi cerco di immaginare che aspetto avrebbe piazzando la t uguale a zero nel posto giusto quando piazzo t uguale a zero qui ho una funzione di tipo seno quando la piazzo qui ho una funzione di tipo coseno quando la piazzo qui ho una funzione di tipo meno coseno quando la piazzo qui ho un tipo di funzione meno seno ma quando la piazzo qui non è un coseno non è un seno è la somma di un coseno più la somma di un seno a seconda di un piazzo del tipo t uguale a zero ho seni, coseni, meno coseni, meno seni o cose ibride cioè somme di coseni e seneni e se io vi chiedessi qual è l'ampiezza perchè se questo è x zero iniziale guardate questo è t uguale a zero qua questo punto qua a che ampiezza arriva? nel caso che partiva da fermo l'ampiezza era x zero no? ma se lui non è in fermo ma è in velocità e parte da questa posizione dov'è il disegno? eccolo qua se lui parte da qua in velocità continuerà ad aumentare la x fino a un valore massimo qual è il valore massimo a cui arriva? pensateci provate a pensare a cosa arriva? cioè qual è l'ampiezza di questo riquadro qua da mettere nel quadretto di fronte alla vostra attuale su cui mediterete se il corpo parte con x zero con la velocità di x zero a che massima distanza arriva? qual è l'ampiezza dell'oscillazione? cioè qual è l'ampiezza di questa oscillazione qua? pensateci qualcuno vuole azzardare una risposta? lo farete all'orale pensateci che verso? pensateci forse la somma in quadratura è estraente dall'arice quadrata forse Pitagora questo al quadrato più questo al quadrato da questo al quadrato quindi questo al quadrato più questo al quadrato è estraente dall'arice quadrata pensateci pensateci qual è l'ampiezza? va bene vogliamo fare una variazione sul tema? meccanici ed elettrici tutti e due allertati questo è il pavimento come al solito senza attrito questo è la sponda in cui è confiocata una bella molla e non la deformeremo troppo quindi la forza della molla sarà proporzionale alla deformazione della molla quindi useremo la legge di hook ma voglio che questo corpo qui in realtà si trovi dentro un pistone ha tenuta ad aria di fluido perchè qua dentro attraverso un'apertura io immetterò un fluido e quindi il corpo deve farsi strada attraverso il fluido attenzione non voglio che questo pistone sia troppo piccolo cioè che questo stia proprio dentro perchè non voglio che faccia da stantuffo voglio che il fluido possa passare l'analogo è questo anzi probabilmente giovedì faremo questo esercizio immaginate che questo sia un soffitto dalla quale pende una molla poi voi attaccate una massa attaccate la massa e il corpo ovviamente scederà qua lo disegno la molla iniziale era così poi voi attaccate la molla e la molla va giù no? la viene tirata giù quindi questo corpo se io vi chiedessi di scrivere l'equazione del moto cosa scrivereste? il moto è lungo la verticale chiamiamo la direzione positiva da basso perchè la soluzione è naturale se la molla non ci fosse il corpo cadrebbe non vi pare? giusto? quindi scrivete la resi di Newton in questa direzione voi cosa scrivete? scrivete MA l'accelerazione in questa direzione verso il basso sarà l'accelerazione positiva adesso l'altro l'accelerazione negativa che lo definiamo in direzione positiva più di là uguale alla forza totale che agisce sul corpo ssh sono due forze che agisce sul corpo uno è la molla e l'altro è la forza peso la forza peso è verso il basso più mg e poi ci sarà la molla che la scriverò così quando la x è positiva se questo la chiamiamo x uguale a zero quando la molla era qua senza dieta attaccata chiamo questo x uguale a zero appena attacco la molla lui va giù non vi pare? mica sta qua! io la tengo pur fermo con la mano ma qua non la lascio presa quel cazzo sta là no? quindi posso anche chiamare questo x uguale a zero ma una cosa è certa che in questa posizione la molla è allungata quindi la x di questa posizione è positiva e la forza dovuta alla molla è verso l'alto la forza dovuta alla forza peso è verso il basso quindi io scriverò la forza peso quando x è positivo cioè la molla è allungata la forza è verso l'alto quando il corpo se per caso era quassù quindi il corpo è qua con la molla compressa avevo una x negativa e avevo che la molla la forza peso era verso il basso ma anche la molla era verso il basso perchè la molla era compressa quindi vedete che scrivere così vi descrive in maniera corretta quello che sta succedendo avere la massa più giù di x uguale a zero avevo la forza verso l'alto avere la massa più su di x uguale a zero avevo la forza verso il basso d'accordo? ok? e voi dite ok a x due punti più k diviso m x o cazzo è uguale a g non è omogeneo questo lo faremo giovedì quindi quello che voglio fare adesso è immaginare io voglio tornare qua e immaginare che questo sia qua ci sia una bacinella con un passante questa è la vostra molla e questo è il vostro corpo e qua dentro ci sia fluido ok? l'ho solo disegnato in orizzontale quindi quando il corpo si muoverà per effetto della molla ma deve farsi strada in mezzo al fluido quindi qual è l'equazione del moto? questo lo torneremo tra un attimo volevo solo farvi capire che non voglio che questo faccia da stantuffo cioè non voglio che la massa sia proprio tale che il fluido qua venga in qualche modo compresso dalla molla no, vuol dire che il fluido scorra scorra è uno stantuffo molto grande se volete è una bacinella gigantesca è semplicemente il corpo deve non farsi strada attraverso il fluido non sta agendo da pistone eh? non sta agendo da stantuffo o da siringa quindi era disegno volutamente grande ho perso qualche minuto però perché mi sono reso cosa che il disegno non era chiaro questo è una gigantesca camera pieno di fluido c'è un buco da qualche parte magari qua dentro c'è un pavimento liscio quindi c'è un sostegno qua è liscio qua avete il vostro corpo qua c'è la molla che passa attraverso il magari ha più senso di esegliarlo così c'è un passante qua a prova di fluido ok? quindi il corpo qua non c'è attrito sul tavolo ma c'è fluido quindi qual è la legge del moto? in questa direzione è mx2qd questa è la posizione x uguale a 0 voi portate il corpo qui allungando la molla lasciatela presa chiaramente la forza la molla lo tira verso sinistra e il corpo comincia ad accelerare acquista velocità speriamo che parta da fermo il corpo acquista velocità verso sinistra ma acquistando velocità l'interazione con quel fluido deve essere più importante e voglio che la forza del fluido voglio che la forza del fluido sia come quella di stamattina proporzionale alla velocità ma cambiata di segno quindi quando il corpo se io lo metto qui e lascio la presa lui accelera di là quindi c'è una forza per di qua dovuta alla molla ma la forza del fluido è per di là quando il corpo si troverà di qua perché passerà dall'altra parte si spera perché se io riempio questa camera di catrame potrebbe neanche riuscire a passare di là non vi pare? se riesci a passare a sinistra di x uguale a zero la forza della molla sarà di qua e viaggiando in quella direzione tornando verso la zero la forza del fluido sarà di là cioè voglio che la forza del fluido sia sempre opposta alla velocità quindi io scriverò mx due punti uguale meno kx questa è quella della molla meno bx punto questa è la forza viscosa questa è la forza della molla guardate come con quei segni mi torna il verso corretto delle frecce quando il corpo è a destra dell'origine del punto di equilibrio di x uguale a zero la forza è verso sinistra quando il corpo si muove verso destra la forza è verso sinistra quando il corpo è a destra ma il corpo si sta spostando verso sinistra la forza è verso destra la forza è il fluido dovete fare o costringete me a fare i disegni ma lo faccio perché io sono pagato per fare questo non sono pagato per farvi la matematica e non sono pagato per fare l'assistente sociale ma per farvi un po' di disegni e di fisica questo si quindi se questo è x uguale a zero se il corpo si trova di qua e si sta muovendo verso destra disegnate due frecce uno della molla e uno del fluido viscoso facciamo in giallo la molla e in blu il fluido quindi se lui è a destra la molla ha una forza in questa direzione se il corpo si sta muovendo di là la direzione della forza dell'attrito viscoso sarà di qua non è detto che abbia lo stesso modulo se il corpo si trova nella stessa posizione ma la velocità è in questa direzione quale sono le direzioni delle forze? quella della molla dipende da dove si trova quindi se è a destra la molla e se è nella stessa posizione la forza della molla è identica non vi pare? la forza della molla è identica perché la forza della molla dipende dalla posizione del corpo se è a destra la forza è verso sinistra se sono a destra della stessa quantità cioè se la molla è deformata della stessa quantità la forza della molla è la stessa adesso pensiamo alla velocità dei due disegni quindi se i moduli delle velocità sono uguali ma una velocità è verso destra e questa è verso sinistra la forza del fluido in questo caso è verso sinistra la forza del fluido in questo caso è verso destra e avrà lo stesso modulo di questo la forza del fluido si oppone alla velocità la forza della molla non c'entra fin così con la velocità dipende da dove si trova il corpo fate i disegni complementari cioè immaginate che il corpo sia questo è x uguale a 0 immaginate che il corpo sia di 4 magari della stessa quantità, della stessa distanza così disegniamo delle frecce che in qualche modo siano ok? immaginate che il corpo sia alla stessa distanza ma dall'altra parte la molla è compressa questo è x uguale a 0 quindi di qua la molla è allungata e di qua la molla è compressa qual è la direzione e il modulo della forza della molla? adesso la molla è verso destra e ha lo stesso modulo che è qua quindi dovrei disegnare una freccia che è simile a questa ok? disegnare la direzione della forza dovuta all'attrito viscoso non mi basta sapere dov'è devo sapere la velocità qual è la freccia blu che devo disegnare? dipende da come si muove no? non da dove si trova quindi se uno si sta allontanando ulteriormente sta comprimendo ancora di più la molla con una velocità come questa quindi perdi qua allora la forza dell'attrito viscoso è come questo se invece il corpo è in questa posizione ma viaggi e li va ecco capite? dov'essere molto chiaro a voi quindi questa è l'equazione del moto è un'equazione omogenea? cosa si fa per capire se è un'equazione omogenea? si porta a sinistra tutto quello che dipende da x è lineare? si! perchè x e le derivate appaiono alla prima potenza non ci sono allevazioni al quadrato, alice quadrata tutta la prima potenza è lineare è omogenea? si! perchè se io porto tutto a destra e quello a sinistra e quello che dipende da x mi rimane uno zero di là om x due punti a più i x punto più k x uguale a zero e notate come l'ho scritto l'ho scritto in ordine delle derivate decrescente perchè quello è lo standard derivata seconda, derivata prima non derivato è omogeneo quindi questa è un'equazione lineare del secondo ordine omogenea può funzionare un polinomio? no! lo scopo è trovare una x trovare una x di t che è messa qui questa è la derivata prima cioè questa è la velocità questa è l'accelerazione la velocità x messa qui derivandola due volte derivandola una volta mettendola qua e moltiplicandola per m rispettivamente per m, b, x e k deve essere zero sempre per ogni stanza del tempo proviamo le soluzioni di tipo esponenziale quindi prova una a e alla alfa t deve essere in questa forma che è la forma a alfa? allora qual è la derivata prima della funzione di prova? qua c'è una pippa qual è la derivata prima? e alfa a alla e alfa t qual è la derivata seconda? è uguale a alfa quadro a alla e alfa t quindi per essere una soluzione io devo imporre che questo moltiplicato per m più questo moltiplicato per b più questo moltiplicato per k che deve valere quello? se volete possiamo dividere tutto per m no? facciamo anche perché guardate qua appare questa combinazione di parametri eh? cos'è k diviso m? la chiamiamo omega 0 quadro facciamo un cavallo quindi alfa quadro a alla e alfa t più b diviso m alfa a alla e alfa t più k diviso m a e alla alfa t deve essere 0 sempre questa è la condizione che che questa qua sia soluzione cioè questo qui è chiaro che lo fa vero di nuovo stesso argomento qual è il contenuto matematica di questa equazione? a a a non è certamente a anzi se a fosse uguale a 0 avrei la soluzione triviale no? che il corpo sta fermo dentro la mia camera riempito di fluido il corpo sta nella posizione x uguale a 0 e sta là per sempre questo corrisponderebbe avere a uguale a 0 quindi quindi il contenuto matematico è questo che alfa quadro più b diviso m è alfa più k diviso m deve essere uguale a 0 questo è il contenuto matematico quindi guardate la struttura di questa e la struttura di questa hanno la stessa struttura no? questa è un'equazione differenziale questa no questa è un'equazione algebrica questa è un'equazione algebrica questa è un'equazione differenziale avrei potuto dirlo prima questo ma lo dico ora questa si chiama l'equazione algebrica associata e vedete come potreste scriverla senza neanche guardare al posto della derivata seconda cosa mettete? alfa quadro al posto della derivata prima cosa mettete? alfa al posto di x cosa mettete? 1 qua avete i parametri 1 davanti b diviso m k diviso m vedete? quindi alla derivata seconda alla funzione x mettete 1 alla derivata prima mettete alfa alla derivata seconda mettete alfa quadro perché? non vi ricordate? perché se la x è uguale ad a a l alfa t la derivata prima era alfa per x e la derivata seconda era alfa quadro x quindi il fatto che l'equazione algebrica abbia questa forma è proprio perché la derivata la funzione esponenziale quando avete e alla alfa t la derivata vi fa scendere un'alfa la derivata seconda vi fa scendere un'altra alfa no? ok? quindi il nostro compito voi dite shhh se no non lo dico è in programma e ci vediamo all'orale è molto fastidioso qua io sto lavorando qui e la gente non sta attenta è molto seccante quindi se lo sapete già non vi interessa andate via non sta piovendo a me non frega niente non devo salvare le vostre anime vediamo il segnale fisica se avete l'interesse andate via non disturbare meglio questi compagni è così semplice quindi affinché questa sia soluzione quella alfa non può essere un numero qualsiasi ma deve essere soluzione di questa equazione algebrica ogni studente che è arrivato ad essere primo all'università dovrebbe sapere trovare le soluzioni ok? perché voi avete da tanti anni non mi ricordo che anno lo fate forse in seconda media quando è che fate le le quando è che fate le cose del genere le quadratiche e qualcuno vi chiede di trovare gli zeri cosa sono gli zeri? cioè questa è una quadratica shhh questa è una quadratica e trovare gli zeri vuol dire trovare i valori di x per la quale y è uguale a 0 non è? allora cosa si fa? la formuletta che ognuno di voi dovrebbe conoscere la scrivo e poi riprendiamo 30 minuti ce ne sono due meno b più o meno radice quadrata di b quadro meno 4ac diviso 2a b quadro meno 4ac è chiamato indiscriminante quindi quando quando avete una situazione del genere la parabola fa così avete due zeri quando la parabola fa così avete due zeri che coincidono quando la parabola fa così i zeri sono immaginari perchè indiscriminante nel primo caso avete che è maggiore di 0 in questo caso avete che discriminante è uguale a 0 e in questo caso in cui sembra che non intercetta l'asse non c'è nessun valore x questo è quando è negativo ok? facciamo la pausa riprendiamo qua